Una grande folla di fedeli ha recitato il Regina Celi con Papa Francesco in Piazza San Pietro lunedì 21 aprile, lunedì dell'Angelo. Rivolgendosi ai fedeli, il Papa ha ripetuto l'annuncio gioioso della Ressurrezione di Cristo. Un annuncio, ha detto, che deve imprimersi nel nostro cuore e trasparire dai gesti, dalle parole, dagli atteggiamenti quotidiani della nostra vita. In questo modo il cristiano diventa testimone della Ressurrezione, capace di portare la luce del risorto nella gioia e nella sofferenza delle situazioni umane. Il Papa ha poi raccomandato ai fedeli di prendere il Vangelo e di rileggere quotidianamente le pagine che raccontano della Ressurrezione. Ci farà bene, ha detto. Papa Francesco si è infine soffermato sulla figura di Maria, la madre di Gesù, a cui ci rivolgiamo recitando il Regina Celi. La profondità del suo dolore nel giorno della Passione del Figlio è pari alla profondità della sua gioia nel giorno di Pasqua, ha detto il Papa, e ha aggiunto. Dal venerdì al mattino di domenica, lei non ha perso la speranza. L'abbiamo contemplata madre addolorata, ma al tempo stesso madre piena di speranza. Lei, la madre di tutti i discepoli, la madre della Chiesa, è madre di speranza. A lei, silenziosa testimone della morte e la Ressurrezione di Gesù, chiediamo di introdurci nella gioia pasquale. Lo faremo con la recita del Regina Celi, che nel tempo pasquale sostituisce la preghiera dell'Angelus.